Una prima rappresentazione dei fatti aziendali, che ci avvicina in maniera semplificata al metodo della partita doppia, è la seguente. Ricordiamoci sempre che gli investimenti vengono iscritti nella parte sinistra, mentre i finanziamenti nella parte destra. Detto questo, il primo fatto di gestione è la costituzione dell'azienda da parte dell'imprenditore. Lo stesso imprenditore però finanzia la propria azienda. In questo caso preleva 50 euro dal proprio patrimonio personale e lo destina all'azienda stessa, neocostituita. Quindi la fonte di finanziamento è il titolare, che assume questa forma di finanziamento, come abbiamo già visto, il nome di capitale proprio. Da questa fonte scaturiscono i denari che affluiscono nella cassa aziendale. Quindi dopo il primo fatto avremo 50 euro nella cassa aziendale finanziati con capitale proprio. Il secondo fatto di gestione è questo. 50 euro finanziati con capitale proprio non sono sufficienti, quindi l'imprenditore si reca in banca per chiedere un prestito e lo ottiene. In questo caso è la banca che finanzia, siamo sul lato dei finanziamenti, per 50 euro. Nasce quindi un debito, cioè l'azienda nel momento in cui ottiene il prestito si vede nascere un debito verso banche. Questa in effetti è la contabilità dell'azienda, quindi è l'azienda che contabilizza gli eventi e i fatti. Con questo capitale di debito, questo debito verso le banche, la banca dà all'azienda 50 euro, che vanno a unirsi con gli altri 50 precedentemente entrati. Quindi dopo queste due operazioni il denaro in cassa complessivamente che l'azienda dispone è di 100 euro. Quindi abbiamo reperito i mezzi monetari. Che possiamo fare? Il terzo fatto di gestione ci fa capire che l'imprenditore dopo aver acquisito i mezzi monetari intende impiegarli acquistando i fattori produttivi. Quali sono questi fattori produttivi? Che sono investimenti, perché i fattori produttivi sono le cose che io acquisto e che sono necessarie. Acquista merci, il cui costo, cioè l'onere sostenuto per ottenere il fattore produttivo, è di 50 euro. Non solo. Sostiene un altro costo, cioè ha bisogno del lavoro di alcuni dipendenti. Quindi paga salari e stipendi per 20 euro. Complessivamente questi 70 euro vengono finanziati con la cassa. Quindi la cassa che era entrata precedentemente in questo momento esce, escono questi mezzi finanziari per 70. In questo modo l'imprenditore, quindi l'azienda, acquisisce questi fattori produttivi necessari per svolgere l'attività economica. Il quarto fatto, che noi andiamo a esaminare ora, consiste in questo. L'imprenditore intende acquistare altre merci, ma questa volta, rivolgendosi al fornitore, ottiene di poterla pagare, la partita di merci intendevo, tra 60 giorni. Quindi nel momento in cui acquisto merci per 80 euro dal fornitore, e si tratta in questo caso di un investimento che va ad aggiungersi a queste altre merci, contemporaneamente mi rendo conto che non ho bisogno di pagare con il denaro, ma sorge un debito verso il fornitore, il che sta dalla parte dei finanziamenti. Quindi il fornitore è un capitale di terzi, un capitale di debito, è un soggetto, è una fonte di finanziamento. Andiamo a vedere un ulteriore fatto. Acquistate le merci, vediamo che l'imprenditore vende tutte queste merci. Le vende, in effetti, è ciò che intendeva fare fin dall'inizio, comprare e poi vendere le merci. Le vende, tutte, a un valore di 190 euro. Le merci che vengono vendute, in un certo senso, escono dall'azienda. Rappresentano un ricavo, in quanto il ricavo non è altro che il corrispettivo della vendita delle merci o dei servizi di ciò che produce comunque l'azienda. Bene, questa vendita di merce viene collocata dalla parte dei finanziamenti, perché in qualche modo da questa vendita, che è anche un ricavo, noi otteniamo prima o poi del denaro. In questo caso, poiché il cliente ci pagherà tra dieci giorni, non otteniamo immediatamente il denaro, cosa che avverrà tra dieci giorni, ma questo fa nascere un credito verso i clienti, o verso il cliente in particolare, poiché noi abbiamo venduto le merci e noi abbiamo finanziato il nostro cliente e quindi è una forma di investimento che noi abbiamo posto in essere. Con la vendita di merci, che è una forma di finanziamento, facciamo nascere un credito verso il cliente che nell'ultima scrittura, nell'ultima registrazione del fatto, vediamo che c'è la riscossione di questo credito. Quindi il denaro entra questa volta. Perché entra? Perché il credito che prima era sussistente, ora viene pagato dal cliente, quindi noi riscuotiamo dal cliente. Il credito non c'è più, quindi esce, svanisce, ma è anche una forma di finanziamento, nel senso che dalla riscossione del credito, dalla sua estinzione, si ottiene il denaro in cassa. Bene, questi sono fatti di gestione, sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei fatti di gestione, sono stati registrati uno per uno, ma possiamo anche dire che ci sono dei riepiloghi che si possono fare tra investimenti e finanziamenti, che vedremo successivamente.